Fissati i criteri per le candidature del PDL, anche in provincia di Brindisi i giochi sono tutt'altro che fatti, perché se è vero che tra i paletti fissati spicca il limite di tre legislature o di 15 anni in Parlamento, è pur vero che Luigi Vitali, onorevole azzurro under 65, punta comunque ad un posto al sole nell'istino bloccato del Senato. La speranza arriva sempre dall'ufficio di presidenza del PDL, che spiega come ci saranno deroghe per chi ha contribuito alla reputazione del partito, per chi ha un significato particolare sul territorio e per chi è stato importante per l'attività parlamentare. Il parlamentare francavillese, a precisa domanda se ritiene di rientrare alla luce di queste regole, risponde convinto assolutamente sì, il problema ammette Vitali e che allo stesso modo risponderebbe qualunque parlamentare uscente. Nei prossimi giorni, ad ogni modo, incontrerò personalmente Berlusconi solo allora, chiuso all'azzurro, sapremo realmente come stanno le cose. E se francavilla la fa da padrone nel gioco delle totocandidature, concurto per Fli e Ferrarese dell'Udc, senza dimenticare il già confermato Salvatore Comaselli del PD, i brindisi risponde con toni d'amore e per la serie a volte ritornano con l'ex presidente del Consiglio Comunale, Nicola Di Donna, già inserito nella bozza della lista per la Camera, che il coordinamento regionale della destra ha inviato al direttivo nazionale. Di Donna sarà il terzo pugliese in lista alle spalle di Stellamele, Bat, e Davide Milella, Bari. Resta ancora da capire la posizione di Michele Saccomanno, dichiaratosi fedelissimo del PDL e poco disposto al trasloco verso movimenti e partiti paralleli. Eppure, con Vitali riconfermato, le speranze di rielezione restano ancorate ad un risultato del Partito Azzurro in linea con quello degli anni passati, cosa che, a giudicare dall'esito delle ultime tornate elettorali, appare quanto mai improbabile. Torna alla ribalta anche il nome di Sardelli, dato vicino all'area Monti, dove però i posti utili per una candidatura, anche a fronte della certezza ferrarese, sembrano davvero essere finiti, almeno in provincia di Brindisi e nel PD, dove tutto sembrava già fatto, spunta la grana dei paracadutati da Roma. Sette in Puglia, che potrebbero rivoluzionare l'assetto delle liste, blindato il già citato Tomaselli, terzo, secondo il direttivo ragionale, appare più incerta la posizione di Elisa Mariano, dodicesima, alla Camera, ma proprio in virtù dei nominati, in attesa di capire se quel posto sarà o meno confermato. Insomma, trasperanze, propositi, curricula e colloqui, sembra di essere all'ufficio di collocamento, con ordeli disoccupati, alla ricerca del posto fisso, sembra appunto perché alla fine, beh, è solo politica.